No, Carlo! Cionzi, dammi. Fai qualcosa, Carlo. Fai qualcosa? Sì, ma perché sto cambiando? No, sto riprendendo Carlo, Siki. Oh, 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 oh. Sì, ma qualcuno che fa qualcosa? È un video, Ale. Fai qualcosa. Stai guardando un video. Stai guardando un video. Stai guardando un video. Che voi tagga. Ti tagga sicura. Fai qualcosa, Ale. E cosa fa? Vai! Vai! Oh, no. Com'era? Brava! Brava! Stai, riprendi un po' toniche. Ma scusa, mettiamola da qualche parte. Quina scusa. Grazie a tutti.